Domenica 11 febbraio Teramo festeggerà il carnevale per grandi e piccoli e lo farà in Piazza Martiri con trampoglieri, fachiri, burattini e musica live. Ad organizzarlo non sarà il comune che è commissariato da mesi e nemmeno la proloco, sarà invece un privato, un imprenditore teramano che vuole fare dono alla sua città di una giornata di divertimento. Grazie all'iniziativa di un imprenditore Teramo avrà il suo carnevale. Sì, ho pensato a questa cosa perché sono papà di tre bambini e mi fa piacere vederli giocare in piazza anche con tanti altri bambini e niente, vediamo questa piazza se riusciamo a farla vivere. Purtroppo, come dicevo prima, ci è sfuggito il capodanno, per noi adulti comunque possiamo tranquillamente stare a casa e organizzarci, però ai bimbi almeno pensiamoci. In questa occasione, oltre a fare il carnevale per i bimbi, ci sarà un love music anche per i più grandi, quindi anche noi ci potremo divertire. Quindi lei sponsorizza e paga questo carnevale? Sì, sì. E' un regalo ai suoi figli e ai tutti i bambini della città? E' un regalo alla città di Teramo che a me ha dato tantissimo, perché io amo questa città e perché, questa è una cosa che dico sempre, quando vado in giro per l'Italia o porto qui a Teramo i miei clienti o i fornitori, restano tutti quanti veramente sbalorditi dalla nostra accoglienza. E allora se abbiamo questa città, amiamola, facciamo in modo che la città sia sempre più quella, che arrivino persone a Teramo. L'imprenditore Teramano Varani, che offrirà dunque alla sua città una festa di carnevale in piazza, che altrimenti non avrebbe avuto, non nasconde di volersi impegnare in un futuro prossimo in altre iniziative particolarmente importanti. Cosa le piacerebbe fare per questa città, oltre il carnevale? La cosa è partita anche per scherzo, mi piacerebbe fare il sindaco di questa città, ma la cosa è ancora molto vaga. Mi piacerebbe per fare in modo che questa città torni a vivere. Però oggi pensiamo al carnevale, altrimenti potrebbe sembrare lo scherzo di carnevale. Grazie. 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 Grazie.